Allora, parliamo di consulenza finanziaria. All'interno dell'attuale contesto di mercato molto complesso, con tanti temi forti, l'età, sia la volatilità e quant'altro, come gestire il rapporto col cliente? Entriamo proprio nel clou, nell'essere consulente finanziario, ovvero la gestione del cliente in momenti complicati, che hanno tanti temi e possibilmente tanti spunti, magari anche atti a impaurire il cliente, comunque renderlo un pochino più vivace del solito. Assolutamente. Questo è un momento estremamente complicato, estremamente difficile per i promotori finanziari. Io cerco di dare alcuni suggerimenti. Innanzitutto, questo è un momento in cui bisogna risedersi davanti al cliente e ridefinire, rivedere quello che è l'orizzonte temporale di investimento e il profilo di rischio. Cioè, un momento in cui, chiaramente, vista la volatilità dei mercati, bisogna chiedere al cliente se è ancora convinto di fare certi tipi di investimento in un certo orizzonte di investimento e se ha ancora un certo profilo di rischio. Se viene recepita questa affermazione, questa conferma dell'orizzonte di investimento, allora anche in momenti di mercato come questi si possono avere delle opportunità. Quindi bisogna far capire al cliente, tranquillizzandolo, che c'è la volatilità sui mercati, perché forse ce l'avevamo un po' dimenticata, ma la volatilità sui mercati in passato c'è sempre stata, e bisogna saperla anche sfruttare. Se invece un cliente emotivamente non si sente in grado di gestire la volatilità, va in panico quando la borsa fa meno 2%, allora è chiaro che bisognerà rivedere un attimino la sua asset allocation. Però guardate, il punto secondo me chiave però è questo, cercare di fare un ulteriore passaggio, cioè passare da una logica di asset allocation, cioè ti faccio un portafoglio, a una logica più di pianificazione finanziaria, di financial planning, cioè cercare sempre di più di far capire al cliente che l'attività consulenziale è rivolta a comprendere complessivamente come è disposta la tua ricchezza e quindi ad aiutarti a raggiungere degli obiettivi che riguardano sicuramente gli investimenti finanziari, ma riguardano anche altri aspetti, come possono essere la tutela legale, il passaggio generazionale, anche la gestione degli immobili, perché si parla spesso di volatilità dei mercati finanziari, ma non dimentichiamoci che sul mondo immobiliare ci sono problematiche altrettanto forti. Quindi sapere gestire in questo momento emotivamente il cliente non è facile, sappiamo tutti che i clienti spesso si fanno prendere dal panico o viceversa dall'euforia. Un altro suggerimento è quello di portare sempre dei dati anche concreti oggettivi per far capire al cliente che il mondo è cambiato, che ci sono dei paradigmi che sono saltati, che ci sono rischi anche in asset class che prima noi pensavamo essere sicure, come ad esempio l'obbligazionario, il Bund e quant'altro, ma per fargli capire effettivamente come oggettivamente vanno le cose. Quindi questo è il suggerimento, soprattutto sempre di più avere una visione più integrata e farla passare al cliente del suo patrimonio e della sua ricchezza. Grazie mille.